Uno squallore incredibile. Così si presentava l'abitazione di Gina Fabri, 71 anni, una villa disabitata in località Pessino di Acquata Scrivia il 6 febbraio 2018, quando si intervenne una volta scoperto il decesso dell'anziana donna, madre di Franco Traverso, 47 anni, ora sotto processo in corte d'assisi ad Alessandria per l'omicidio della madre. Fu stroncata dal gelo, impossibilitata a muoversi avendo le mani legate. Mancavano luce e riscaldamento, c'era ovunque disordine e sporcizia, cibi in stato di decomposizione, indumenti ammucchiati, insomma, una situazione caotica e quasi impossibile da descrivere. A dirlo ai giudici togatti e popolari è stato un testimone. L'imputato nega il matricidio, asserendo che non aveva alcun interesse a compierlo, in quanto Igina Fabri lo manteneva, quindi gli serviva in vita. Lui in pratica non lavorava, aveva sempre bisogno di soldi e la poveretta aveva consumato tutti i propri risparmi per soddisfare le sue continue richieste di denaro. All'udienza, la prossima, l'11 febbraio, sono stati ricostruiti i movimenti di quest'uomo, tossico dipendente senza mestiere. È stato possibile nel conteggio della rigorosissima griglia delle celle telefoniche e sotto l'occhio infallibile di una telecamera che, ad esempio, ha spiato il passaggio dell'auto di Marco Traverso. Non era stata ripresa la targa, ma a dire dei testi, quell'automobile era dell'imputato. Gli investigatori se ne sono detti certi per via di alcuni dettagli, come quello di un tergicristallo mal posizionato, un fanale malconcio, una targa posticcia. Per l'accusa l'uomo portò la madre in quella villa di proprietà della donna, ma abbandonata. Lui ha detto che Igina Fabri voleva lì andare per mettere ordine. Ma come poteva farlo da sola, al buio, al freddo, a fronte di una massa di sporcizia, a chiedere giustizia per la sventurata donna e l'ex compagna di Traverso da cui ha avuto una figlia e che si è costituita parte civile.